Auguro buon anno a tutti e che ci si possa illuminare della massima consapevolezza spirituale possibile, portandola nella quotidianità, integrandola in essa, che si possa cogliere il senso più autentico e profondo della realtà, in rapporto alle necessità indicate da Emanuele Severino, secondo le quali tutto è eterno e il divenire anichilistico è impossibile. E ringrazio coloro che hanno acquistato il mio libro, Eternità e Immaterialismo, tra Severino e Berkeley, sperando che si istituiscano confronti e dibattiti anche in diretta, nel mio canale, che questo testo possa essere per molti l'occasione per approfondire la teoresi severiniana e per intraprendere questo tipo di indagine filosofica.